Il progetto che vado a presentare oggi è certamente un progetto monumentale. Lo è dal punto di vista della musica che vado a proporre, della quantità di musica ordinata tutta insieme che vado a proporre, ma lo è certamente per me come persona e partirei proprio da quest'ultimo punto di vista. Ovviamente come avete già visto dal titolo e dalla copertina di questo video, si tratta di questa raccolta definitiva ad oggi di tutte le musiche registrate di mio papà, tutte musiche che ho registrato io evidentemente e le ho registrate nel corso del tempo, a partire da quell'agosto 1993 in cui ancora non esisteva Bellut Luna come etichetta, ma esisteva questo progetto commissionato da terzi di cui io mi presi un po' per caso, un po' per occulta volontà, l'onere della produzione esecutiva. All'epoca l'ingegnere del suono fu un giovanissimo Matteo Costa al suo secondo disco registrato. Quindi sono 31 anni che io mi dedico indefessamente alla produzione, alla registrazione, alla divulgazione della musica di mio papà e questa è diventata una priorità non da subito. La priorità è diventata tale nel momento in cui mio papà è morto. Infatti Bellut Luna che nasce nel settembre del 1995 nasce anche e soprattutto perché io mi sentivo coccolato, mi sentivo appoggiato da questa figura di direzione artistica musicale che mio papà di buon grado aveva accettato di assumere su mio invito. Quindi io mi sentivo veramente in una botte di ferro, sapevo di poter affrontare un percorso ed avere al mio fianco una delle massime autorità musicali della sua epoca, veramente un senso di serenità, di sicurezza. Ma prima che venisse pubblicato il secondo disco che conteneva una composizione che io avevo commissionato a mio papà, un quartetto d'archi, mio papà morì, morì improvvisamente e questa fu una situazione veramente destabilizzante. Primo perché mio papà aveva 59 anni, non ne aveva ancora 60 e tutti eravamo molto lontani dall'immaginare che potesse morire così repentinamente. Poi ovviamente anche per le circostanze in cui è morto e su cui preferisco sorvolare perché dovremmo aprire un capitolo che non c'entra niente con i contenuti del video di oggi. Ma fatto sta che questa situazione per un attimo ha fatto vacillare anche la mia convinzione di proseguire nel progetto di Valut Luna. Una situazione d'incertezza che è durata in realtà molto poco perché ho immediatamente capito che non solo dovevo proseguire, dovevo proseguire a questo punto con tutte le incertezze e con tutta la responsabilità sulle mie spalle da un minuto all'altro, non più condivisa con questa roccia che era mio papà, ma doveva continuare a quel punto per fare quello che lui forse in vita non avrebbe accettato così facilmente di fare, ovvero andare a documentare l'importante corpus delle sue composizioni come autore, come compositore. Quindi capite bene come questo Adriano Lincetto Legacy, questo testamento di Adriano Lincetto in musica, sia un'opera così importante per me e anche così difficile da affrontare in modo organico per mille e un motivo. Ma era necessario farlo, erano mesi e mesi che ci stavo pensando e finalmente ho preso, come si dice, la forza a quattro mani e mi sono lanciato in questa operazione. E quindi questo Adriano Lincetto Legacy. Come dicevo raccoglie tutte, tutte, ma proprio tutte le composizioni che ho realizzato finora, che non sono le registrazioni di tutte le composizioni di mio papà, che sono in misura abbastanza superiore a quelle che io ho documentato finora. Ad esempio è esclusa tutta l'ultima parte della sua vita, gli ultimi anni, in cui mio papà si è dedicato principalmente alla composizione di musica sacra per un suo riavvicinamento al mondo della religione cattolica, quindi le messe, i cori, i salmi. Ecco, tutta quella parte lì è ancora vergine e chissà se questi anni che mi restano da vivere potrò impiegarli per andare a riempire anche quest'ultimo buco, diciamo così, nella discografia di Adriano Lincetto. Prima di affrontare brevemente, naturalmente, un po' a volo d'angelo i contenuti di questo super cofanetto, che come vedremo è un cofanetto digitale, quindi inserito all'interno di una memoria USB, ma questo è già uno spoiler dell'ultima parte del video, io voglio affrontare un altro tema, un altro tema legato sempre ovviamente alla figura del mio papà, che mi ha spiazzato nel momento in cui io mi sono posto la domanda, ovvero ma in quel periodo lì chi era mio papà, cosa faceva? E mi riferisco al periodo della sua infanzia e della sua adolescenza. È una domanda che ha fatto scattare anche un campanello d'allarme, perché io mi sono reso conto che sono l'ultimo della mia famiglia a poter raccontare queste cose. Eh sì, sono rimasto solo, mia mamma è morta, mio fratello è morto, non ci sono ulteriori discendenti o ascendenti diretti che possano dare un contributo a una memoria che mi sono reso conto essere estremamente lacunoso, o meglio non è lacunosa la memoria, è proprio lacunosa la mia conoscenza di quel primo periodo. Io ho fatto, come credo gli appassionati di questo canale sanno bene, un lungo video documentario per ricordare mio papà un paio d'anni fa, che trovate regolarmente in questo canale. Un documentario affidato più alle testimonianze di chi l'ha conosciuto, quindi a ricordi della persona, insomma un taglio diverso dal biografismo in senso stretto che oggi mi sarebbe piaciuto affrontare. Perché uso questo mi sarebbe piaciuto? Perché in realtà mi sono reso conto che veramente mancano tantissimi tasselli. Tasselli temo a questo punto perduti nel tempo, io mi sono anche confrontato con la mia cara cugina Daria per verificare alcune date, alcune cronologie della famiglia Lincetto, ma anche lì, anche nel suo caso, non c'erano certezze. Cerchiamo quindi in breve di ricostruire come Adriano Lincetto è diventato Adriano Lincetto, perché è evidente che anche un compositore, anzi soprattutto un compositore, quindi un artista, non può che essere frutto di se stesso, frutto della propria esperienza di vita, frutto delle proprie radici. Mio papà nasce nell'ottobre del 1936 e nasce da una famiglia sinceramente poverissima. Come si dice e come si diceva un tempo mio papà è stato il primo della sua famiglia ad aver studiato, in realtà no, è stato il secondo, visto che il primo è stato il suo amatissimo fratello Guido, come vedremo fra breve morto giovanissimo. La famiglia di mio papà, sia per parte di papà del nonno, sia per parte di mamma la nonna, era sostanzialmente una famiglia contadina, tant'è che io sono riuscito a conoscere queste radici contadine della mia famiglia. Ricordo come da bambino negli anni 60 mio papà non perdeva una domenica per andare a trovare quella che io chiamavo la nonna vecchia. La nonna vecchia era in realtà la mia bisnonna per parte di padre, la nonna di mio papà, che viveva ancora in questo antico rustico Veneto nella collina vicino a Padova, Turri, il nome del paese, dove ancora avevano le vigne, dove ancora avevano l'aia con le galline, dove il bagno era fuori dalla casa, dove il riscaldamento era dato dal cammino a legna, una dimensione autenticamente, clamorosamente, dolcemente contadina, radice a cui mio papà è sempre rimasto legato. Anche se, se non vado errando, lui è nato comunque in città. Mio nonno è stato, qualcuno una volta diceva, un eroe di guerra, purtroppo di una guerra maledetta, la guerra ad Abissinia, dove fu anche ferito e ricordo sempre che lui mi diceva come tornò in Italia con la stessa nave con cui il re Aile Selassie venne in Italia per consegnare, diciamo, la spada dell'impero al reggente del nostro paese in quel periodo, in quel triste ventennio che fu. Questo suo essere da una parte un convinto patriota, come era mio nonno e tutta la mia famiglia, non gli impediva di essere tuttavia dissidente da quello che vedeva. Infatti sia mio nonno paterno, ma anche mio nonno materno, che ha avuto tutta un'altra storia, e casomai ne parleremo in un'altra circostanza, erano credo fra i pochissimi non fascisti, ovvero letteralmente non possedevano la tessera del partito fascista. Ebbene, in quegli anni mio nonno paterno si arrabattava, come dire, faceva lavori saltuari. Mio papà nasce a un attimo, a un passo dallo scoppio della seconda guerra mondiale e vive da bambino gli anni terribili della guerra. Fra l'altro un episodio che mi piace ricordare e che è forse quasi la matrice inconsapevole del mio amore verso gli Stati Uniti d'America, amore, come sapete, da qualche tempo tradito e non da me, è legato a questi racconti, ad esempio, che mi faceva mio papà, come dopo quell'inverno terribile fra il 1944 e il 1945, in cui Padova era senza riscaldamento, aveva pochissima luce, il cibo scarseggiava, era massacrata dai bombardamenti alleati. Fra l'altro mio papà era nato e viveva in una casa sopra il portico, in via Alberto Mario, che all'epoca erano case popolari, ora mi risultano ristrutturati come spazi extra lusso, come spesso accade, ma allora erano case popolari. E appunto dopo questo inverno terribile, visto con gli occhi del bambino, dopo aver subito il bombardamento della zona di Santa Croce, dei Cappuccini, aver rischiato anche probabilmente di morire, come molti altri concittadini, ebbene quella mattina del 28 aprile, svegliandosi come tutte le mattine da buon bambino e aprendo la finestra di casa, sotto al portico vide gli americani. In realtà era una compagnia neozelandese, la prima della compagnia alleata che arrivò a Padova nei giorni della cosiddetta liberazione, ma per lui evidentemente erano gli americani. Con tutta quella coreografia e tutta quella immaginifica tipologia di atteggiamento di questi, fra virgolette, liberatori nei confronti dei cittadini, a partire dalle famose tavolette di cioccolata, che mio papà ricorda furono le prime cose che questi soldati giovanissimi gli affidarono a lui e agli altri bambini del quartiere. Questo è un ricordo molto importante perché credo che anche in lui abbia lasciato un imprinting di questa immagine bellissima, positiva, favorevole di questi americani che ci liberarono dal gioco del fascismo. Poi le cose andarono in modo un po' diverso, ma ripeto qui entreremmo nell'ambito degli argomenti più tipici dell'altro canale. Ebbene questo bambino, questo mio papà bambino, era sicuramente ricco di fantasia, una mente molto lucida, molto fervida, con una naturale predisposizione, evidentemente innata, visto che non c'era nessun precedente all'interno della nostra famiglia, verso la musica. Lui mi racconta, mi raccontava di questo vecchio pianoforte verticale sgangherato presente nella parrocchia che frequentava, dove mise per la prima volta le mani e dove letteralmente in via autodidatta iniziò a strimpellare. Poi molto presto questo suo strimpellare fu colto dalla classica signorina, oggi diremmo la vecchia zitella del paese, insegnante di musica, che capì le potenzialità di questo ragazzino e decise, credo dal gratis, a costo simbolico di una fetta di formaggio, di seguire, di instradare, di educare, dare le prime lezioni di pianoforte. E quello fu proprio l'inizio. Poi, ripeto, la vita dopo la guerra non era certamente facile per questa famiglia. Mio papà aveva questo fratello Guido, e poi un fratello più piccolo, nato nel 1942, Danilo, e purtroppo entrambi morti, ma Guido in particolare è morto giovanissimo. Guido era del 1932 e, se non sbaglio, abbiamo faticosamente cercato di ricostruire le vicende, morì nel 1951. Nel 1951, quando aveva appena iniziato a lavorare, infatti Guido era stato un brillante studente che era riuscito ad arrivare ad un diploma di ragioniere, che vi garantisco per l'epoca era qualcosa di clamoroso, soprattutto per una famiglia poverissima come era quella dei miei nonni. Era arrivato appunto a questo ambito diploma, che gli consentì subito, ed eravamo appunto subito dopo la guerra, fra il 49 e il 50, di ottenere un lavoro, un lavoro con cui finalmente la famiglia poteva respirare, grazie a questo stipendio da ragioniere. Purtroppo lo zio morì, morì a 19 o 20 anni, non ci è chiara la data esatta. Vedete il tempo che passa e la memoria che si perde. Dicevo, morì per una banalissima appendicite degenerata in peritonite, perché non venne portato abbastanza rapidamente in ospedale. Purtroppo all'epoca si moriva di queste cose. Mio papà, che aveva 15 anni, che aveva appena finito quella che all'epoca si chiamava l'Avviamento, che era la scuola media dei poveri, e aveva finito i tre anni di avviamento e si avviava a proseguire un percorso professionale come era stato per i suoi fratelli, ma la dura realtà della morte di Guido lo costrinsero a lasciare gli studi tradizionali, gli studi sui banchi di scuola, per andare a lavorare in un magazzino di termosifoni. Mi raccontava mio papà che il suo lavoro era praticamente di caricare e scaricare termosifoni durante il giorno, per poi arrivare a casa la sera, fare dei lunghi bagni di acqua calda alle mani e dedicarsi finalmente la sera allo studio del pianoforte in parrocchia, perché ovviamente non aveva un proprio pianoforte in casa. E questi sono gli anni dell'adolescenza. Poi finalmente quando alla soglia dei 17-18 anni raggiunge una maturità artistica che già lasciava intendere il talento incredibile e le qualità incredibili proprio di interprete, di pianista che aveva mio papà, ecco che la signorina che l'aveva in cura musicale lo affidò alle sapienti mani del maestro Silvio Mizzolo, uno dei più grandi pianisti e a sua volta compositore della sua epoca, che poi diventerà direttore del conservatorio, prima della scuola musicale, poi conservatorio Cesare Pollini. Ed ecco quindi l'avventura degli ultimi tre anni del corso di pianoforte, l'ottavo e poi il decimo con il diploma, che mio papà riassume in circa un anno e mezzo. Bene in quell'anno e mezzo il nonno con un grande sforzo accetta di farlo stare a casa dal lavoro che difficilmente gli avrebbe consentito di raggiungere i risultati necessari appunto per l'esame di ottavo e poi per il diploma e grazie anche al fatto che aveva ottenuto finalmente un lavoro abbastanza stabile il nonno come posteggiatore, come custode di un noto parcheggio cittadino e quindi poteva raggranellare quel minimo sindacale, come si dice, per poter mandare avanti la famiglia e consentire anche a mio papà di fare quest'ultimo anno di studio senza doversi caricare durante il giorno anche del lavoro fisico. Arriva quindi il diploma e poi ci avviciniamo a larghi passi alla realtà di cui ho ricordi legati alle narrazioni anche ma comunque ricordi abbastanza precisi ovvero il fatto che conombe mia mamma che era una aspirante cantante lirica come suo insegnante di pianoforte siamo alla fine degli anni 50 per arrivare poi al matrimonio tra il 60 e il 61 e la mia nascita e così la nascita della famiglia e un lavoro ancora non chiaro ancora avventuroso diviso fra la musica e il suo più prosaico mestiere di venditore di dischi e vedete come ritornano i cicli della vita nel mitico negozio di Vanotti questo fino al 1966 anno in cui finalmente a 30 anni riesce a coronare il suo sogno di avere un incarico permanente all'interno del conservatorio oltre all'intensificarsi della sua attività concertistica eccetera 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 e quindi a lasciare definitivamente il lavoro provvisorio detto fra virgolette di venditore di dischi nel negozio di Vanotti e iniziare definitivamente in via esclusiva la carriera di musicista ma ripeto dopo 30 anni che sicuramente hanno maturato un carattere gli hanno fatto vivere tutta una serie di esperienze che lo hanno portato a quella persona che ha dato vita a questa musica incredibile un'altra parte importante soprattutto nel momento in cui lui lasciò la scuola sui banchi di scuola come si dice è la sua inarrestabile sete di cultura mio papà è stato nel corso della sua adolescenza della sua gioventù e poi per tutta la vita un incredibile lettore un divoratore di libri dai romanzi ai saggi di tutte le materie e la sua cultura se l'è costruita in questo modo qui una cultura umanistica profonda ha imparato il francese la lingua in quel momento considerata più importante più significativa e l'ha imparato anche questo per via autodidatta leggendo i libri ascoltando la radio eccetera eccetera insomma una personalità decisamente come dire particolare come dicevo mio papà ha caratterizzato la sua attività di musicista in una prima parte come concertista come camerista come solista al pianoforte ha dedicato molta parte della sua vita a insegnare alle cantanti liriche alcuni dei nomi più importanti del mondo della lirica fra gli anni 60 e 70 sono passati per casa mia io chiamavo zia Lucia Valentini Terrani forse il più grande mezzo soprano rossignano di tutti i tempi chiamavo zia la signora Katia Ricciarelli e poi altri nomi importanti che passavano furono José Carreras un giovanissimo José Carreras e tanti tanti altri Giacomini il tenore Giacomini insomma tantissimi nomi del mondo della lirica importantissimi in quel periodo passarono per casa mia perché era una appunto delle attività più importanti di mio papà e poi nella seconda parte invece l'attività didattica sempre più fortemente sentita sempre lui era veramente legato ai suoi allievi era veramente legato alla sua scuola al conservatorio Pollini un conservatorio Pollini che fu perché quello di oggi non è nemmeno lontano parente di quello che fu ai tempi di mio papà ma questo è un altro discorso ma soprattutto agli allievi noto da chi non lo conosceva personalmente come un essere burbero e intrattabile e in questo in qualche modo mi ci riconosco ma in realtà poi chi lo conosceva appunto sapeva riconoscere una persona di grande umanità grande disponibilità e per nulla aggressiva e in ogni caso la sua missione come insegnante e poi per lunghissimi anni come condirettore del conservatorio era quella dei ragazzi di dare un'educazione non solo musicale ma globale a questi ragazzi verso i quali sentiva una responsabilità incredibile io qui adesso faccio una breve pausa mi permetto di inserire un frammento di un video che è già presente nel documentario però a questo punto credo che sia veramente importante anche all'interno di questo video vedere questi pochi minuti per identificare e rinfrescare la memoria di chi fu mio papà invece adesso parliamo un po' di lei visto che prima abbiamo parlato del conservatorio beh in lei com'è nata la passione della musica? domanda difficile molto difficile perché non ho memoria di questo addirittura quindi sì è perfettamente inutile raccontare aneddoti non verificabili ma da che mi ricordo sono sempre stato attratto dalla musica allora vediamo allora da quando ha deciso che ne avrebbe fatta la sua professione? mai mai? no perché anche questo avvenne per caso io mi diplomai lasciamo perdere quanti anni fa e non mi reputavo all'altezza di fare il professionista della musica non ero convinto di questo e intrapresi tutta un'altra strada finché l'allora direttore del conservatorio mi chiamò per ricoprire una certa cattedra non devo tacere però un fatto che nonostante ci fosse un altro tipo di attività avevo anche cominciato a far concerti però magari lavorando e preparandoli di notte ma avevo una certa attività alle spalle e forse questo ha spinto appunto il direttore a affidarmi una delle classi del conservatorio in quel momento è nato un momento di fiducia in quel momento credo sia nata la professione incidentalmente questo succedeva più di vent'anni fa però senta adesso di che cosa si occupa all'interno del conservatorio io sono il vice direttore il vice direttore sì che rapporto ha con gli allievi ottimo 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 guardi perché stanno succedendo delle cose molto strane ogni volta che loro hanno problemi perplessità desideri gioi vengono a parlarmi e questa è una cosa molto bella sei stato restaurato direi con tutti un rapporto confidenziale paterno no molto amichevole direi sì amichevole sì senta c'è mai stata un'occasione nella sua carriera per cui lei si sia pentito diciamo di aver scelto di fare questo mestiere pentito no lamentato perché richiede molto lavoro sì no pentito direi di no lo rifarei anzi se potessi tornare indietro quel lasso di tempo che ho lasciato trascorrere dedicandomi non interamente ma in parte ad altre cose probabilmente non lo farei più comincerei fin da subito grazie a tutti Grazie a tutti. 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 della musica di mio papà, un'esecuzione fatta dal mio papà nel febbraio del 1996, pochissimo tempo prima che si ammalasse e morisse improvvisamente, realizzata all'organo in occasione del matrimonio di mio fratello. E quindi è questa registrazione all'organo di chiesa, nella chiesa del Bassanello a Padova, realizzata appunto da mio papà a questi due minuti e 38 secondi che sono anche l'ultima testimonianza diretta come musicista, come compositore di mio papà prima che morisse e infine a chiudere il primo volume per l'appunto la suite orchestrale che registrammo all'auditorium Polini di Padova, con l'orchestra di Padova del Veneto, con primo violino Pierotoso, grande amico di mio papà, tutti i solisti dell'orchestra, alla direzione Fabio Framba in quell'occasione e ovviamente Silvia Regazzo, altra grandissima interprete di oggi alla voce che fu a suo tempo in origine di Lucia Valentini Terrani. Adesso non vado a farvi una descrizione pedisse qua volume per volume, fatto sta che brevemente al volume 2 raccolgo tutti i brani per Pianoforte solo, i 4 schizzi, i 4 improvvisi, i 5 momenti musicali e poi partono due lunghissimi volumi dedicati alla musica da camera. Qui troviamo delle cose interessanti, ad esempio troviamo due edizioni differenti, due registrazioni differenti realizzate a 30 anni di distanza del Quintetto per Fiati, un brano a cui lui teneva moltissimo, la prima di quel primo mitico disco del 1993 con l'Alban Quintet e poi l'ultima realizzata nel settembre del 2022, prima che io arrivassi qui in Spagna, con i ragazzi del Conservatorio di Vicenza, con allievi coordinati in qualche modo da Franco Poloni, il cornista protagonista dell'Alban Quintet della prima edizione, quindi anche questa è una cosa veramente molto interessante da sperimentare. Una doppia versione, troviamo anche del divertimento a due per chitarra e pianoforte, dove abbiamo l'edizione originale registrata da me nel 1997 con alla chitarra Paolo Muggia, che era il dedicatario di questo brano e Lorela Ruffin al pianoforte e poi un'edizione che ho accettato di registrare su input degli interpreti che me l'hanno proposta, molto di recente nel 2015, ed è una nuova versione registrata nello studio di Preganziol con alla chitarra Lapo Vannucci e Luca Torrigiani al pianoforte. Anche qui è molto interessante percepire la diversa sensibilità con cui i differenti interpreti affrontano il medesimo brano musicale. Ultimo brano in doppia edizione, il concerto per flauto e archi. Il concerto per flauto e archi che anche qui è presente nella prima registrazione assoluta realizzata con i artisti di Venezia con violino principale, il grande amico Gianni Guglielmo e Enzo Caroli, dedicatario dell'opera. E poi, in realtà in questo caso solo cinque anni dopo, una versione dal vivo che ha fortemente desiderato suonare e in quel caso anche registrare l'amico Mario Folena con l'orchestra di Padova e del Veneto, guarda caso con primo violino e maestro concertatore Federico Guglielmo, figlio di Gianni. Vedete questi rimbalzi che si susseguono all'interno della musica e della musica, del gruppo dei musicisti, della famiglia dei musicisti. Questi sono solo alcuni brevi tratti di quello che è il contenuto di questa di quest'opera che io ritengo veramente importante. So che ogni volta che io propongo in coda i miei video delle musiche di mio papà queste vengono veramente e normalmente molto apprezzate. Quindi io spero che quest'opera possa anche incontrare l'interesse di più di qualcuno, sia da parte di chi magari ha qualcuno di questi brani ma gli manca una visione generale, sia da parte di chi magari non ha mai sentito nominare mio papà ed è stato un po' incuriosito da questa mia presentazione ed introduzione. Il costo della chiavetta che ripeto è l'unico, è e sarà l'unico modo per potersi portare a casa quest'opera è di 99 euro, quindi un costo secondo me quasi da regalo visti i contenuti, 95 tracce e diciamo più di sei ore di musica, tutta in alta risoluzione, tutta rivista e revisionata con un'ottica e una visione generale, globale, d'insieme e vi garantisco che questo ancora una volta non è uno sforzo da poco, soprattutto da parte di chi ha comunque realizzato tutte le registrazioni come è nel mio caso. Non so cos'altro aggiungere nel senso che potrei stare ore a parlare ma credo probabilmente di avervi annoiato a sufficienza. Vi rimando solo all'ascolto finale, ascolto finale che sarà un medley, un medley come si dice, fra questa esecuzione all'organo del finale dei sogni di Janot, questa ultima interpretazione, ultima presenza musicale in vita di mio papà e il finalissimo nella versione massima più alta da lui voluta che è la versione appunto orchestrale. Quindi anche se questo video è stato abbastanza lungo, vi invito ad ascoltare la musica che conclude questo video e inevitabilmente, inesorabilmente, anche per oggi, that's all. Folks. Grazie. 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 Grazie.